La società può diventare più inclusiva se ognuno di noi si mette in gioco. Ognuno di noi saprebbe come comportarsi davanti alle diverse disabilità. Quando entri poi all'interno di certe dinamiche differenti, che dal punto di vista della società possono risultare utopiche, poi diventa tutto diverso. Come io do ai ragazzi, i ragazzi danno a me. Io avrei una vita molto più vuota e senza senso se non avessi questo progetto, non lavorassi con i ragazzi e con i giovani. Io arrivo il venerdì pomeriggio al centro civico e trovo un luogo pieno di persone, di ragazzi che giocano, che condividono le loro vite e le loro esperienze. Sono felice di venire al centro civico perché è diventato un posto in cui si può essere felici. Qualunque cosa le altre persone dicano, questo è un posto dove si può essere felici. Pronto Ale? Sì, bravo. Sì, bravo. Sì, bravo. Sì, bravo.